buongiorno sono le ore 6 e 55 alexa buongiorno ciao la conquista dello spazio è stato sono le 6 e 59 del mattino iscriviti al canale Mariano, si, 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 ok, grazie, c'è il sottopasso, la macchina, ok, si, si, è qua, ok, chiediamo noi, si, si, amici, si, è il sottopasso, dau 채, non si, cioè ce, c'è questo, la macchina, ok, chiediamo noi, la camera ce l'abbiamo dopo mezzogiorno sono andato a prendere sono mezzogiorno e 30 44 ora andiamo a prendere e vediamo come è la camera qui abbiamo scrivania tv specchio minifrigo pieno ventilatore quadro tutto è bastone si ritorna spiaggia qui si ritorna si ritorna si ritorna non prima ora vediamo a c'è solo la spiaggia qui si ritorna 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 stiamo per uscito stiamo per uscire qui si ritorna qui si ritorna qui si ritorna qui si ritorna No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.